Professoressa Fornero, a lei le ricorda un tragitto che già è stato sviluppato, questo? Direi proprio di sì. Guardi, io non ho mai considerato Draghi un superuomo. Ho sempre considerato Draghi come una persona di grande competenza, di grande esperienza, se vogliamo di grande equilibrio e anche di grande sensibilità. Però noi abbiamo sempre bisogno di supereroi che vengono e in poco tempo risolvono i problemi che sono strutturali, che sono da tanto tempo non risolti del nostro paese. Quindi noi esageriamo subito le capacità anche di una persona e poi però, siccome fra l'altro la nostra politica è abituata al tatticismo esasperato, dopo due mesi allora non va più bene. È vero, io vedo questo sfilacciamento che abbiamo sperimentato anche noi. C'è ancora sempre una grandissima differenza. Ed è non solo la reputazione, che peraltro anche Mario Monti aveva, internazionale di Draghi, ma la grande differenza è anche il fatto che con Draghi noi abbiamo questa ingente quantità di risorse finanziarie e chi ce le dà è l'Europa. Ce le danno se ci facciamo qualcosa. E l'Europa... Voleva intervenire.